Amici sportivi di Teleischia, un cordiale saluto e benvenuti al Don Luigi di Iorio per l'incontro di Girone C di promozione tra il Lacquameno e lo Sporting Club Ercolanese. Il pallone per il numero 9 dell'Ercolanese, all'indietro ancora per Tufano, per Caccia. Occhio a Caccia, il pallone verso il centro, Petrone! Dopo una lunghissima fase di studio sono arrivate queste occasioni pericolose per l'Ercolanese, questa è solo l'ennesima con il colpo di testa del solito Borrelli. Fa salire anche Pezzella di Micco, si accentra di Micco, il taglio al centro per l'altro di Micco, pallone in rete ma c'è fuori gioco. Si parte per il secondo tempo, allargato il pallone ancora per Di Micco, Pezzella, il cross di Pezzella, la testa di Mosca, la parata di Petrone! Pallone, davvero una bellissima azione. Il terzo minuto di gioco, sprecato questo pallone. Ragosta in avanti dove però non c'è nessuno, Jovene, Jovene, il tiro di Jovene. Tufano, il pallone per Mosca in scivolata, superato anche Ragosta, Mosca in area, Mosca attenzione, il pallone al centro! E c'è la rete, la rete di Rossi. La rete di Rossi. Battuto il corner, attenzione, finisce a terra Riccio. Nulla da segnalare, anzi, ammonito addirittura Riccio. Borrelli. Dall'altra parte per Di Meo, arriva Di Meo, contro di lui Palomba. Di Meo per Matrone, fa girare ancora la palla per Tufano. In area da Borrelli, con la testa verso Mosca, poi Pezzella con il mancino. Attenzione a Di Meo, il destro, a prendere il pallone. Rossi chiude il triangolo con Tufano. Tufano, attenzione, superato Petrone. Tufano. Tufano per il 2-0 dell'Ercolanese. Superato con classe, il portiere dell'Acquameno. Pallone depositato in gol. Resta qualche dubbio sulla posizione di Tufano. Questo magari lo potremo chiarire alla Moviola di questa partita. Batte Tessitore. Il pallone al centro. Stacca bene Riccio. Ma la partita finisce con il 2-0.